Ciao a tutti ed eccoci con una nuova fantastica puntata del nostro percorso di storia della filosofia contemporanea. Oggi parleremo di Karl Popper, uno dei più importanti filosofi della scienza del Novecento, uno dei pensatori di maggiore impatto sul percorso di sviluppo dell'epistemologia dello scorso secolo, ma anche un pensatore che sarà molto famoso, molto apprezzato, molto ripreso, molto criticato per quanto riguarda le sue posizioni sulla teoria politica, in particolare il riferimento al cosiddetto storicismo, al marxismo e quindi ad alcune delle ideologie politiche più in voga nel corso del Novecento. Questa lezione in un certo senso si ricollega al percorso che abbiamo già iniziato la scorsa volta con il circolo di Vienna, con il neopositivismo, ma dopo la sigla riprenderemo alcuni aspetti salienti della vita di Popper ma soprattutto approfondiremo il suo pensiero dal punto di vista di teoria della conoscenza e di epistemologia e anche alcuni aspetti delle teorie di filosofia politica di questo grande filosofo austriaco. La sigla! La sigla! Grazie a tutti. Ok, come abbiamo detto nella scorsa lezione, Karl Popper è un filosofo del Novecento. Nasce nel 1902 e muore nel 1994. Vive la prima fase della sua vita a Vienna, una capitale culturale dell'inizio del secolo, importantissima, la Vienna che nei primi decenni del Novecento osserverà l'opera di Klimt, di Sigmund Freud, ma anche, come abbiamo visto, l'emergere del circolo di Vienna, questo cenacolo intellettuale così importante soprattutto dal punto di vista dello sviluppo del pensiero neopositivista, del cosiddetto neopositivismo o empirismo logico. Ecco, Popper entrerà in contatto con alcuni esponenti del neopositivismo, crescerà in questo ambiente culturale, questo vero e proprio centro di cultura europea e internazionale, qual era Vienna negli anni 20 e negli anni 30. Poi, come abbiamo visto, alla fine degli anni 30, con l'ascesa del nazismo, dopo l'Anschluss e l'annessione dell'Austria rispetto alla Germania nazista, fuggirà in Nuova Zelanda e proprio in quella nuova sede impianterà poi il suo percorso di pensiero, diventerà famoso in seguito alla pubblicazione, avvenuta diversi anni prima però, della logica della scoperta scientifica, che è il suo testo, il suo capolavoro, soprattutto di filosofia della scienza. In seguito poi pubblicherà altri testi, abbiamo visto, molto importanti, ma soprattutto dal punto di vista di teoria politica, di filosofia politica, come ad esempio la società aperta ai suoi nemici e la miseria dello storicismo. Ma iniziamo a parlare del Popper filosofo della scienza. Ecco, abbiamo detto, si forma in ambiente vicino, prossimo al circolo di Vienna, ma non è un esponente assolutamente del circolo di Vienna e anzi, per molto tempo nella storia della filosofia si è cercato di capire quanto forte fosse l'influsso nella formazione del pensiero di Popper, della sua frequentazione della conoscenza rispetto al circolo di Vienna, se fosse quindi un neopositivista, se fosse un nemico invece del neopositivismo. Diciamo, negli scritti di Popper si evidenzia molto questo distacco rispetto al pensiero del neopositivismo, soprattutto quasi paragonandosi a un killer del principio di verificazione, che come abbiamo visto è uno dei cardini del pensiero neopositivista del circolo di Vienna. In realtà la critica filosofica più recente tende a, in qualche modo, smorzare questa, come dire, questa dialettica tra chi vuole il pensiero di Popper come una prosecuzione del pensiero del circolo di Vienna, piuttosto che come invece una reazione a quest'ultimo, perché sono emersi in realtà poi con molta chiarezza nel corso del tempo gli elementi di novità, di originalità del pensiero di Popper, perché quindi tutto sommato non si può considerare né un neopositivista né un nemico del neopositivismo, ma piuttosto un filosofo, diciamo, originale, innovativo a tutto tondo, certamente influenzato dalla cultura dell'epoca, ma più che dal circolo di Vienna, vedremo, sarà Albert Einstein, e quindi il principio, diciamo, tutta la teoria della relatività, a incidere profondamente nella formazione culturale di Popper e, senz'altro, occorre anche dire che effettivamente una delle scoperte filosofiche più importanti di questo grande filosofo austriaco sarà effettivamente un elemento di forte critica, di confutazione delle acquisizioni principali del circolo di Vienna, quindi sicuramente si può dire che il pensiero di Popper per molti aspetti è critico, in un certo senso, benché debitore dell'impostazione, del clima culturale e anche del rinnovato interesse della filosofia, della scienza propria, appunto, del circolo di Vienna, quindi è debitore delle sue frequentazioni e della sua formazione viennese per quanto riguarda la centralità, l'importanza della scienza nella riflessione della filosofia, oltre che il ruolo del linguaggio, oltre che l'alternativo di demarcazione tra ciò che è scientifico e ciò che non è scientifico, quindi si può dire che, in un certo senso, gli interessi principali di questo primo Popper sono sicuramente derivati dal tipo di dibattito, dal tipo di approfondimento culturale che c'era nel circolo di Vienna in quel periodo, però, indubbiamente, la posizione che verrà espressa all'interno della logica della scoperta scientifica, questo testo di fondamentale importanza di Popper stesso, sarà, invece, profondamente critico nei confronti dell'idea cardine del neopositivismo, quella che abbiamo analizzato nella scorsa lezione, cioè il principio di verificazione. Popper, infatti, diventerà famoso per l'elaborazione del cosiddetto principio di falsificazione o falsificabilità. Effettivamente, Karl Popper, nella logica della scoperta scientifica, prende le mosse, nel suo percorso di riflessione, proprio dall'analisi dei punti di debolezza del principio di verificazione, che abbiamo visto è uno dei principali argomenti, principali capisaldi del pensiero del circolo di Vienna, del neopositivismo. Ora, il principio di verificazione, sostanzialmente, affermava che il significato di una proposizione è coincidente con il metodo della sua verificazione. Quindi, per, sostanzialmente, sapere se un'affermazione è dotata di significato o no, occorre, appunto, cercare un metodo, uno strumento per poterla verificare empiricamente, nei fatti, con l'osservazione. Tutto ciò che non era rientrante all'interno della sfera dell'osservazione, per questo si chiama anche empirismo logico questo approccio, ecco, non era un'affermazione dotata di senso. E se erano affermazioni prive di senso, le affermazioni della metafisica, come Dio esiste, o altre affermazioni per cui non era possibile trovare un metodo di verificazione empirica. Quindi, per verificazionismo, una teoria è scientifica nel momento in cui è verificabile, cioè nel momento in cui le affermazioni, le varie proposizioni, le leggi, diciamo, di questa teoria sono empiricamente verificabili. Fermiamoci un attimo. Tutto sommato, questo approccio è ancora molto comune, soprattutto a chi, diciamo, non si occupa direttamente di filosofia della scienza o di epistemologia. Se si chiede un po' all'uomo della strada che cos'è che contraddistingue la scienza, ti risponderà molto probabilmente, è un'attività che produce affermazioni verificabili. Si possono andare a riscontrare le affermazioni, le teorie, le leggi della scienza all'interno di laboratori con degli esperimenti. Ecco, la riflessione di Popper inizia proprio da qui. Dobbiamo dire che, appunto, qualche anno prima dell'uscita di questo importante testo, la logica della scoperta scientifica, nel 1916, era stata pubblicata la teoria della relatività generale di Einstein. Ecco, secondo Popper, proprio studiando Einstein, ci si rende conto che questa teoria, che stava scuotendo un po' tutto il panorama intellettuale, scientifico del mondo, più che una teoria verificata o verificabile, assomigliava di più a una teoria assai rischiosa, più passibile di confutazioni rispetto alle verifiche che si potevano riscontrare negli anni successivi alla pubblicazione di questa teoria. Era talmente rivoluzionaria questa teoria e, anche se vogliamo, diversa, opposta, quasi contraddittoria rispetto a tutte le osservazioni che invece avevano, per esempio, per secoli avvalorato la teoria newtoniana, galileiana, quindi la fisica classica. Ecco, questa teoria di Einstein, la relatività di Einstein, sembrava andare contro tutto questo insieme di osservazioni che aveva invece consolidato la teoria scientifica precedente, appunto la teoria di Newton, la fisica classica cosiddetta, per invece azzardare una serie di ipotesi, una serie di, in qualche modo, determinazioni, conseguenze e teorie, supportate naturalmente da dimostrazioni matematiche, ma molto distanti da ciò che effettivamente poteva essere verificato. Insomma, sembrava una teoria più facile da falsificare piuttosto che da dimostrare. C'erano ben pochi elementi verificabili, o meglio, c'erano ben pochi elementi verificati all'interno della teoria di Einstein. Era una teoria che appariva agli occhi di Popper molto rischiosa, molto ambiziosa e radicalmente diversa, opposta, per alcuni aspetti, a tutta una serie di osservazioni che ormai si consideravano, diciamo, spiegate sufficientemente e risolte all'interno della teoria della fisica classica. D'altronde, dice Popper, questa caratteristica della scienza non è soltanto da ricercarsi all'interno della teoria di Einstein, della relatività generale di Einstein, ma contraddistingue un po' tutta l'evoluzione della scienza. Infatti, secondo Popper, lo scienziato fa previsioni di alto valore predittivo, ma che non si possono verificare nel momento in cui le fa. Pensiamo ad esempio ad alcuni esperimenti recenti sul bosone di Higgs. È stato osservato oggi qualcosa che era stato teorizzato più di 50 anni fa dai primi modelli di fisica quantistica. Pensiamo anche, ora lo vedremo, ad alcune affermazioni dello stesso Galileo o di Newton. Sono affermazioni che risultano estremamente difficili, soprattutto nei momenti in cui vengono formulate e negli anni successivi, a essere dimostrate, a essere ancorate a osservazioni. Quindi, diciamo, dal punto di vista generale, ora verremo poi però alle critiche più interessanti e più determinanti al principio di verificazione, però già dal punto di vista storico, dal punto di vista della reale vita della scienza, ecco, un principio di verificazione, che appunto ci dice che sostanzialmente tutto ciò che può essere verificato è scientifico, in un certo senso, o meglio che le teorie scientifiche sono tali se possono, nel momento in cui vengono verificate le loro affermazioni base, ecco, questa credenza è forse utopistica, perché la scienza non funziona così. Le teorie hanno alto valore predittivo, ma appunto fanno delle previsioni, ma si prestano, soprattutto all'inizio, più a essere contrastate da una serie di osservazioni opposte, più che invece essere abbalorate dai fatti. I fatti dovranno essere accumulati col tempo e non sempre è così facile confermare delle teorie, soprattutto nel momento, aggiungerei io, di momenti rivoluzionali, ecco, nell'approssimarsi a delle vere e proprie rivoluzioni scientifiche, come quelle che aveva fatto Einstein, e che appunto sembravano così lontane, per molti aspetti, dal senso comune e da tutto ciò che era stato osservato fino ad allora. Ora, questo è un primo, diciamo, tipo di argomento contro il metodo del verificazionismo, però Popper approfondisce ancora di più la sua osservazione, infatti inizia proprio ad analizzare le conseguenze, anche se vogliamo, logiche ed epistemologiche del principio di verificazione. Insomma, il principio di verificazione, secondo Popper, afferma che ogni proposizione ha significato se posso immaginare un metodo per la sua verificazione, quindi è un principio che si adatta e si applica a tutte le possibili proposizioni esistenti. Ma, si chiede Popper, il principio di verificazione può essere esso stesso verificato? Infatti, questa affermazione del principio di verificazione è un'affermazione di carattere generale, ogni proposizione ha significato se posso immaginare un metodo per la sua verificazione, quindi ogni proposizione, tutte le proposizioni. Quindi, in un certo senso, se io volessi verificare la validità del principio di verificazione, dovrei prima applicarlo a tutte le possibili affermazioni. Io dovrò quindi vedere se ha significato la frase, questa penna è blu, devo verificare questa frase attraverso l'osservazione e poi tutte le possibili frasi che possono essere verificate, con opportune, appunto, osservazioni e prove empiriche. In altri termini, un principio generale, come quello del principio di verificazione di Schleck, per essere verificato ha bisogno di infinite prove e infinite applicazioni, e quindi esso stesso è un principio in realtà non verificabile, non verificato e quindi ricade sul principio di verificazione la stessa problematica che il principio di verificazione trovava per frasi non dimostrabili, come per esempio Dio esiste. Vi ricordate? Dio esiste è una frase metafisica perché non c'è un metodo per la sua verificazione, ma anche ogni affermazione dotata di senso è tale nel momento in cui è possibile immaginare un metodo per la sua verificazione, anche questo principio assume il connotato per Popper di un principio metafisico, perché non c'è nessun metodo per la verificazione di questo principio, proprio perché per verificarlo servirebbero infinite prove, infinite esperimenti, infinite verificazioni. E questa è la prima importante critica che Popper fa al principio di verificazione, ma ce n'è un'altra. D'altronde, dice Popper, se noi dovessimo applicare il principio di verificazione a diverse affermazioni basilari, anche teorie molto importanti e leggi molto importanti della scienza, anche della fisica ad esempio, ecco che ci risulterebbero queste stesse affermazioni non verificabili. Facciamo un esempio, immaginiamo il principio di inerzia di Galileo, ogni corpo mantiene lo stato di quiete o di modo rettilineo uniforme se non interviene una forza opposta, diversa, eccetera, a impedirne il proseguimento in questo stato, a cambiargli di stato. Ma vediamo com'è strutturata questa frase, ogni corpo, quindi è una legge che si applica a tutti i corpi, a tutti gli oggetti. Galileo dice che tutti gli oggetti o permangono nella quiete o si muovono in modo rettilineo uniforme. Bene, dice Popper, per quindi il principio di verificazione, se il principio di verificazione fosse valido, una frase di questo tipo sarebbe scientifica e sensata solo nel momento in cui io riuscissi a verificare che tutti i corpi che esistono, che sono mai esistiti e che sempre esisteranno ricadono sotto questo principio che è il principio di inerzia. Ok? Perché, ripetiamolo, questa affermazione dice ogni corpo, quindi per essere verificata io devo osservare che il corpo A rispetta questa regola e quindi si muove secondo il corpo rettilineo in modo rettilineo uniforme. Il corpo B, il corpo C, il corpo D e tutti i corpi possibili e immaginabili, tutti gli oggetti, tutti i corpi solidi del mondo devono ricadere all'interno di questa legge per permettermi di concludere che questa legge è valida. Quindi è una legge che per essere validata o verificata ha bisogno di infinite prove, dovrei andare a verificare se veramente per tutti i corpi vige il principio di inerzia, mentre in realtà tutti gli esperimenti che sono mai stati fatti sono stati fatti su un numero limitato di casi, benché naturalmente per il principio di inerzia col passare dei secoli è stato questo principio sottoposto a moltissime, moltissime osservazioni che ne hanno singolarmente verificato la validità, ma non a livello generale, non a livello di leggi. La stessa cosa potrebbe valere per il principio di gravitazione universale, per cui i due corpi dotati di massa si attraggono con una forza che è direttamente proporzionale al prodotto delle masse, ma inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Ecco, anche questa è un'affermazione che è una legge importantissima, la legge della gradivitazione universale di Newton, questa legge però per essere dimostrata, per essere verificata secondo quanto previsto dal principio di verificazione dovrebbe essere provata con infinite osservazioni, perché ripetiamolo, è una frase di carattere universale, è una proposizione universale che inizia con ogni, quindi comprende tutti i possibili oggetti e tutti i possibili corpi presenti nell'universo. Capite bene che è impossibile applicare realmente il principio di verificazione per discriminare ciò che è scientifico e ciò che non lo è, perché altrimenti le stesse frasi basilari della scienza risulterebbero non scientifiche e non dotate di senso, senza senso. Una frase che non è verificabile per il principio di verificazione è priva di senso e quindi gran parte delle leggi universali che iniziano con ogni oggetto ricade sotto questa legge sarebbe stricto senso, priva di significato e questo secondo Popper è paradossale perché a questo punto sarebbe proprio la scienza e tutto il corpus delle sue informazioni, leggi e proposizioni a essere il primo bersaglio del principio di verificazione, mentre lo abbiamo detto, lo ripetiamo, il principio di verificazione era proprio a favore del pensiero scientifico, del metodo scientifico e dei contenuti e delle informazioni e della conoscenza veicolata dalla scienza e l'obiettivo polemico iniziale era invece quello della metafisica, quello delle affermazioni che in un certo senso non ricadendo nel principio stesso di verificazione erano prive di senso secondo i neopositivisti e non avevano spazio nella filosofia e nella nostra cultura. In questo senso, e qui chiudiamo, potrebbero essere secondo quindi il principio di verificazione scientifici e veri e verificabili soltanto enunciati singolari. Gli enunciati singolari come questo oggetto si comporta in questa maniera, a queste condizioni, in questo momento è un enunciato verificabile e quindi la scienza dovrebbe rinunciare alla sua portata generale, alla sua portata universale, a fare appunto un'analisi e una, in qualche modo, concettualizzazione della realtà generale tramite leggi universali e dovrebbe quindi accontentarsi unicamente di descrivere questo momento, questo fenomeno, questo evento davanti ai miei occhi perché questo io sono in grado di verificare con l'osservazione e con gli strumenti empirici dentro il laboratorio. Quindi questo è importante, è un limite che mette in luce Popper sul principio di verificazione. Una volta chiarita la critica al principio di verificazione, Popper cerca un principio alternativo che basi appunto la discriminazione tra ciò che è scientifico e ciò che non è e in questo senso gli viene in aiuto una intervista di Albert Einstein, una conferenza di Albert Einstein a cui partecipò Popper e Einstein disse questo, che la teoria della relatività generale prevedeva tra le sue conseguenze il fatto che la luce potesse essere curvata, diciamo, nella sua traiettoria nel momento in cui incontrava dei corpi con massa gravitazionale molto grande, tra cui ad esempio una stella come il Sole. Ora, qui questa conseguenza non è molto facile, anzi è estremamente difficile da osservare, però lo stesso Einstein si rende conto che ci potrebbe essere un'occasione, una sola occasione in cui questo evento, questo fenomeno, poteva essere osservabile. Questo fenomeno infatti sarebbe stato osservabile durante un'eclissi solare. Perché? Perché naturalmente noi, ormai da secoli, conosciamo molto bene, con molta precisione, la posizione delle stelle. Durante la notte, appunto, già gli antichi parlavano delle stelle fisse, cioè di tutte le stelle che hanno una certa posizione, brillano nel cielo, nel cielo però senza luce, nel cielo notturno, e rimangono appunto nella stessa posizione. Ovviamente le stelle altro non sono ai nostri occhi che dei fasci luminosi emessi lontanissimo nello spazio che arrivano, diciamo, fino ai nostri occhi. Ora, se la luce che è emessa dalle stelle, arriva verso la Terra, passasse vicino a un corpo di massa molto grande, come per esempio il Sole, ecco, la posizione di queste stelle dovrebbe risultarci differente. Perché, appunto, rispetto alla traiettoria usuale che farebbe la luce per arrivare, emessa dalle stelle, per arrivare fino a noi, questa traiettoria sarebbe appunto deviata da questo corpo di grandi dimensioni che può, secondo la teoria della relatività, addirittura deformare lo spazio-tempo. Il problema di fondo qual è? È che questo fenomeno quasi del tutto impossibile da vedere, proprio perché nel momento in cui c'è il Sole, il Sole illumina il cielo e quindi non sono visibili le stelle alle spalle del Sole. E quindi esiste soltanto una e una sola situazione in cui questo fenomeno può essere osservabile, cioè un'eclissi di Sole. Durante l'eclissi di Sole noi abbiamo nuovamente la condizione di poter vedere le stelle intorno a noi, perché il Sole in questo momento, quando appunto entra in eclissi, si oscura, il cielo diventa nuovamente un cielo notturno e quindi possiamo a quel punto andare a vedere, a verificare la posizione delle stelle che normalmente si trovano in determinate posizioni, appunto in che posizioni si troverebbero nel momento in cui abbiamo il Sole di fronte a noi. Se, dice Einstein, si verificasse che queste stelle hanno la stessa identica posizione sia se c'è il Sole davanti a noi sia se non c'è, ecco questo è un esperimento cruciale perché dimostrerebbe che la teoria della realità è falsa. Cioè se la luce non incurvasse intorno al Sole e quindi la posizione delle stelle risultasse la stessa anche durante un'eclissi, questa sarebbe una grande prova a sfavore confutazione della teoria della relatività. Sarebbe una prova contraria che sarebbe sufficiente a far cadere la validità della teoria della generale. Ora, il caso ha voluto appunto che nel 1919 ci fu un'eclissi totale e Sir Eddington riuscì, era appena da poco finita la guerra, fu una oltretutto spedizione astronomica importantissima travagliata proprio perché successe durante il periodo bellico la sua preparazione anche se appunto avvenne nel 1919 e si riuscì dopo mille peripezie a fare delle foto, a fotografare la posizione delle stelle, di alcune stelle che diciamo poteva avvenire nel momento in cui c'era l'eclisse e questa posizione delle stelle effettivamente era la stessa, coincideva con quanto previsto dalla teoria della relatività generale, cioè era diversa, leggermente spostata rispetto alla normale posizione delle stesse stelle in assenza appunto del sole che quindi aveva esercitato un'azione di flessione, di curvatura rispetto alla luce stessa delle stelle fisse alle sue spalle. Quindi che cosa rimase, che cosa colpì l'immaginazione di Popper in questo diciamo esperimento? Il fatto che la teoria della relatività che così celebre stava divenendo, stava effettivamente diventando una delle più importanti teorie scientifiche del mondo e aveva già influenzato dibattiti in tutto il globo, proprio perché per molti aspetti sembrava del tutto rivoluzionaria, questa teoria della relatività non era così tanto facile da dimostrare ma tutto sommato poteva essere abbastanza facile da falsificare, cioè sarebbe bastato unicamente quell'esperimento, se fosse andato nel verso sbagliato, essere sufficiente a far cadere, a far dimenticare del tutto e a quindi a far superare la teoria della relatività generale. Quindi questo esperimento è molto importante nel percorso di pensiero di Karl Popper perché gli rende evidente la sproporzione che c'è tra la verificazione di una teoria, che abbiamo detto soprattutto in teorie che contengono enunciate generali è praticamente impossibile e la sua falsificazione, cioè il fatto che basta un'unica osservazione negativa a far cadere completamente la validità di una teoria scientifica e a far venire quindi fuori la necessità di ulteriori approfondimenti, di ulteriori evoluzioni, di ulteriori cambiamenti. A questo punto ci sono un po' gli elementi per fare un ulteriore passo nel discorso e nel ragionamento di Karl Popper. Da un lato abbiamo visto la inadeguatezza del principio di verificazione per spiegare la scienza e per spiegare soprattutto gli enunciati generali della scienza. Il secondo elemento è il ruolo appunto avuto da questo esperimento cruciale del 1919 e appunto la considerazione che sarebbe bastato quell'unico esperimento a determinare la falsificazione della teoria, mentre non è stato sufficiente l'esito positivo dell'esperimento a verificare la validità della teoria einsteiniana una volta per tutte. Unendo questi due ingredienti Karl Popper ottiene il cosiddetto principio di falsificazione, cioè inizia a ragionare sul fatto che la caratteristica fondamentale di una teoria scientifica non è tanto quella di poter essere verificata, perché effettivamente non c'è un modo definitivo per poter verificare una teoria scientifica, proprio perché, come abbiamo detto, lo ripetiamo, servirebbero infinite prove favorevoli, mentre c'è un modo per falsificare una teoria scientifica, cioè con un esperimento che vada diversamente da quanto previsto dalla stessa teoria. Questo appunto è il cosiddetto principio di falsificazione, cioè una teoria è scientifica nel momento in cui può essere falsificata dall'esperienza, cioè una teoria è scientifica nel momento in cui al suo interno esistono degli enunciati, delle affermazioni, delle proposizioni, che sono passibili di confutazione da parte dell'osservazione. Quindi, secondo Popper, una teoria è scientifica nel momento in cui contiene quelle che lui chiama le asserzioni base, cioè degli enunciati che possono essere potenzialmente in conflitto con l'osservazione, cioè sono appunto passibili di confutazione, passibili di verifica, controllo e quindi anche di possibile falsificazione. Attenzione, non ci sta dicendo Popper che la scienza deve avere al suo interno degli enunciati falsi, bensì ci sta dicendo che la scienza deve avere degli enunciati falsificabili. È molto diverso questo concetto, è chiaro che la scienza per Popper deve cercare di incrementare le nostre conoscenze, ma quello che ci sta dicendo è che ogni teoria scientifica, per essere tale, deve poter essere passata sotto il vaglio dell'osservazione, la quale non verificherà mai una volta per tutte la teoria, ma sarà in grado però, in qualche caso, di confutarla, di rigettarla, di demolire a volte anche solo magari delle parti, delle sezioni, diciamo così, della teoria. Ma se la teoria non avesse avuto degli enunciati falsificabili, ecco, allora in quel caso la teoria non sarebbe stata scientifica. È scientifico tutto ciò che è falsificabile, tutto ciò che comprende al suo interno quelli, appunto, che chiama Karl Popper asserzioni base o anche falsificatori potenziali, cioè delle frasi che possono, teoricamente, essere in contrasto con le osservazioni. Poi probabilmente non lo saranno, probabilmente se, diciamo, l'esperimento sarà favorevole, ecco, queste osservazioni non saranno in conflitto con la teoria e quindi non la falsificheranno. Non sta dicendo che devono esserci dei falsificatori reali all'interno della teoria, perché, chiaramente, in quel caso non parleremmo neanche più di una teoria scientifica. La teoria scientifica deve avere l'ambizione di spiegare la realtà e quindi di cercare di essere il più verosimile possibile. Ma quello che ci sta dicendo è che devono queste affermazioni poter essere in linea di principio smentite. Se non lo fossero, se non sono smentibili, appunto, non stiamo più parlando di una teoria scientifica, ma di una teoria religiosa, metafisica o, come vedremo, anche di fede politica o di altre fedi, ma non certamente una teoria scientifica. Quindi è scientifica una teoria che preclude molte cose, cioè che contiene delle previsioni che possono entrare in conflitto con l'esperienza, con l'osservazione. Più previsioni sono potenzialmente in conflitto con l'esperienza, cioè possono essere smentibili, in linea di principio, dall'esperienza, più la teoria è scientifica. Ad esempio è scientifica una frase, secondo Popper, come appunto domani ci sarà il sole. Ecco, questa è una affermazione scientifica perché aspettando domani è possibile metterla alla prova e anche falsificarla. E quindi questa affermazione è un'affermazione che può essere smentita, è un'affermazione che può far parte di una teoria scientifica. Attenzione, anche per il circolo di Vienna un'affermazione come domani pioverà è un'affermazione scientifica, ma proprio per la ragione opposta a quella che stiamo dicendo. Infatti per i neopositivisti sarebbe un'affermazione scientifica perché, aspettando il giorno successivo, sarebbe possibile verificare il fatto che domani piove, mentre qui stiamo parlando del contrario, del fatto che è possibile falsificarlo. Ecco, una frase come per esempio domani pioverà o non pioverà, mentre per il circolo di Vienna è un'affermazione scientifica e per forza perché è sempre vera, o domani piove o domani non piove, per il famoso principio del terzo escluso non è possibile una terza via, quindi è sempre vera una frase come appunto domani pioverà o non pioverà. Mentre per il principio del falsificazionismo questa affermazione non è scientifica perché non è falsificabile, è un'affermazione tautologica, è un'affermazione che sostanzialmente non rientra nell'ambito dell'osservazione perché qualsiasi osservazione non potrà che confermarla e quindi non aggiunge nessun tipo di conoscenza, dire domani pioverà o non pioverà. Vedete quindi la differenza, mentre al contrario non è un'affermazione scientifica, un'affermazione non falsificabile per nessuna ragione al mondo, come per esempio Dio esiste. Ecco, Dio esiste è un'affermazione non scientifica sia per il circolo di Vienna sia per il pensiero popperiano perché in effetti non è né verificabile né falsificabile. Ma chi decide quali sono i falsificatori potenziali? Beh, non sono queste asserzioni base già prestabilite all'interno di una teoria, ma vengono formandosi attraverso la formazione stessa della teoria e in un certo senso la comunità scientifica che individua le asserzioni che devono essere poi quelle messe in confronto all'osservazione, quindi che debbano essere poi in qualche modo commisurate, confrontate con l'esperienza. La quantità e la qualità di questi falsificatori potenziali è una scelta dei ricercatori scientifici ed è proprio quello che unisce in un certo senso il linguaggio della comunità scientifica. Sappiamo quanto è importante appunto poter controllare intersoggettivamente le teorie scientifiche attraverso degli esperimenti che vengano ritenuti validi non soltanto da ricercatori che li fa, ma da tutta la stessa comunità in un certo senso. Quindi per concludere, più falsificatori potenziali sono presenti in una teoria, più è scientifica la teoria stessa. In questo senso l'immagine che ci dà Karl Popper è quella di una scienza diversa, una scienza molto diversa dall'ideale, se vogliamo, illuminista o anche della rivoluzione scientifica, cioè di una scienza che possa spiegare una volta per tutta la realtà. Al contrario, lo capiamo già da subito, la messa al centro dell'interesse del principio di falsificazione è l'intendere la scienza come una costruzione su palafitte. Cioè per Popper la scienza non è un edificio incrollabile, non è un edificio che dà certezze, quanto piuttosto un edificio che appoggia provvisoriamente come una palafitta su un territorio, un terreno, ma che può nel corso del tempo rivelarsi questo terreno molto meno affidabile di quanto previsto e quindi si dovrà costruire nuovamente una nuova palafitta. Quindi diciamo, nel certo senso, la verità è qualcosa veramente di lontano, di inafferrabile e quindi bisogna stare molto attenti quando parliamo di verità scientifica, di verità oggettiva della scienza, perché l'immagine che ci sta dando della scienza Karl Popper è l'immagine di un'attività di continua ricerca, di un'attività che non arriva mai a certezze assolute, non può arrivare a certezze assolute proprio perché in quel momento non sarebbe più scienza. La scienza per essere tale ha bisogno di essere confrontata e confrontabile con esperienze che la possano mettere in crisi e quindi è una ricerca continua, è una verità fino a prova contraria, ecco la verità della scienza è una verità fino a prova contraria e quindi questa interpretazione del problema della scienza è originale, è diversa e sicuramente per alcuni aspetti diminuisce l'enfasi e l'illusione di poter cogliere l'essenza intima della cosa e soprattutto di poter avere una volta per tutte delle risposte ultime sul mondo proprio perché per la sua stessa natura la scienza si deve continuamente confrontare con il lato scuro diciamo, con la falsificazione che è poi data dall'esperienza empirica e dall'osservazione. Secondo Popper questa teoria del falsificazionismo ha un grande vantaggio rispetto alla teoria del verificazionismo perché c'è una asimmetria logica tra la verificazione e la falsificazione. L'abbiamo un po' visto, Popper ad esempio ci fa un esempio molto famoso dei cigni bianchi, per secoli si è pensato che tutti i cigni fossero bianchi, quindi che l'affermazione tutti i cigni sono bianchi è un'affermazione vera, verificata perché si sono sempre osservati cigni bianchi, un cigno, due cigni, cento cigni e mille, milioni di cigni e quindi sembrava assolutamente verificato, certo che tutti i cigni fossero bianchi e che quindi l'affermazione tutti i cigni sono bianchi era verificata perché c'erano state milioni, c'erano migliaia di anni e milioni di osservazioni positive che confermavano che tutti i cigni erano bianchi, se non che a un certo punto una spedizione geografica nel cuore dell'Australia trovò una specie di cigni neri e quindi bastò quella sola osservazione, cioè che esistono alcuni cigni che non sono bianchi, che sono neri, per distruggere completamente centinaia di anni di osservazioni e migliaia di osservazioni che andavano nella direzione di tutti i cigni sono bianchi. Quindi vedete, un'affermazione universale come tutti i cigni sono bianchi per essere dimostrata avrebbe bisogno di un'infinità di osservazioni e non è una cosa umana, l'infinito è qualcosa che ci sfugge, non potremo mai verificare veramente se tutti i cigni mai esistiti e che sempre esisteranno sono bianchi, mentre basta un solo cigno nero, uno solo, per avere la certezza che non tutti i cigni sono bianchi. In questo senso il fatto che non tutti i cigni sono bianchi però non è un'affermazione da buttare via perché è comunque un'affermazione che fa parte della scienza, pur non avendo la certezza dei colori di tutti i cigni, possiamo dire che è un'affermazione che è stata sottoposta ed è sottoponibile alla sua falsificazione. È un'affermazione falsificabile e quindi, diciamo, può appartenere all'albeo delle affermazioni che compongono una conoscenza scientifica. Proprio per questo, più che di verificazione, nella epistemologia di Popper, nella logica della scoperta scientifica, si parlerà di corroborazione. Cioè una teoria scientifica, proprio per sua natura, non potrà mai essere verificata una volta per tutte, ma potrà essere però corroborata. Cioè si prendono queste asserzioni base, quindi si fanno gli esperimenti e si mettono a confronto le affermazioni con l'esperienza. A quel punto, se l'esperienza non viene, appunto questa affermazione non viene falsificata, non è che verrà verificata, perché abbiamo detto che non potrà esserlo, ma verrà corroborata. Cioè quella legge acquisisce una maggiore corroborazione sulla base del numero di esperimenti positivi che ha ricevuto. Quindi via via che una teoria rispetto a un'altra teoria rivale ottiene maggior successo con le prove empiriche, un maggior successo nel suo confronto con l'esperienza, tanto più quella teoria sarà considerata non verificata ma corroborata, cioè rinforzerà la sua posizione rispetto a una teoria che invece ha meno prove favorevoli. Il principio di falsificazione consiste quindi anche in un cambiamento di interesse rispetto al circolo di Vienna, perché il focus si sposta dalla significanza alla demarcazione. In che senso? Per il circolo di Vienna il fatto di aver posto alla base di tutto il principio di verificazione era qualcosa che aveva l'utilità di poter distinguere un'affermazione sensata da una che non lo era. Vi ricordate? Per Schlich, infatti, e per gli esponenti del circolo di Vienna tutto ciò che non è verificabile non è dotato di senso. Il loro obiettivo polemico era appunto la metafisica e altre attività che non potevano avere un riscontro immediato con l'esperienza. Quindi un criterio di significanza, tutto ciò che ha un contenuto empirico, è verificabile con l'esperienza, è qualcosa di sensato. Tutto ciò che non è verificabile è qualcosa di insensato. Invece, secondo Popper, il fuoco va spostato dalla significanza a quella che è la demarcazione. Cioè è molto più interessante stabilire che cos'è scientifico da cosa non lo è, piuttosto da quello che è sensato rispetto a quello che non è, proprio perché vedremo per Popper anche le affermazioni che non hanno contenuto empirico sono sensate. Ma chiaramente un conto è un'affermazione sensata e un conto è un'affermazione scientifica, quindi può essere sensata un'affermazione che non è falsificabile e quindi non rientra nell'alveo della scienza, ma comunque svolge un ruolo nella nostra conoscenza, benché non si tratti di conoscenza scientifica. È molto importante quindi cercare di distinguere i due piani di analisi, perché in un certo senso, laddove i neopositivisti vedevano una serie di affermazioni senza senso e quindi anche di attività e di discipline che non avevano ragione d'essere. La metafisica, ad esempio, secondo i neopositivisti sarebbe dovuta sparire dalla faccia della terra perché era un'accozzaglia di proposizioni senza senso e non aveva nessun significato parlare di Dio, di libertà, di giustizia eccetera eccetera, perché appunto erano sostanzialmente affermazioni non riscontrabili nell'osservazione empirica e quindi non verificabili. Invece il salto che fa Popper è molto importante e quindi bisogna seguire questo salto. Spostando l'interesse dalla significanza alla demarcazione recupera l'importanza anche di affermazioni non verificabili, proprio perché appunto abbiamo detto che quello che a noi interessa più che altro, o meglio che interessava di più Popper, era una demarcazione tra ciò che era scientifico e ciò che non lo era e ripetiamolo, è scientifico, è solo ciò che è basato su affermazioni falsificabili. Però esistono alcune affermazioni che non sono falsificabili, non sono neanche verificabili, pur hanno un grande peso nella nostra vita. Pensiamo alla stessa, diciamo, affermazione che abbiamo detto prima, Dio esiste. Dio esiste non è falsificabile, è impossibile trovare un esperimento che ci dimostri che Dio non esiste, proprio perché di per sé Dio è qualcosa che è al di là, è metafisico, è al di là dell'osservazione, quindi di principio è indimostrabile e infalsificabile. Secondo Popper, nonostante l'affermazione Dio esiste non è falsificabile, quindi non è scientifica, ecco questa affermazione ha un grandissimo ruolo nella vita di ognuno di noi e d'altronde ha e come significato. Se infatti io comunico a qualcuno e dico a qualcuno Dio esiste o Dio non esiste, questo qualcuno comprenderà di che cosa stiamo parlando e avrà una reazione. Potrà essere d'accordo con me, potrà invece al contrario non essere d'accordo e magari parlarmi della sua visione di Dio. Ecco, quindi Popper, ripetiamolo, fa un importante distinguo tra quello che è sensato o non sensato e quello che è scientifico o non scientifico, sono due cose diverse. Una cosa può essere non scientifica ma essere assolutamente sensata, anzi vedremo come alcuni aspetti legati all'approccio nel mondo, alla propria filosofia, alla propria visione, alla propria metafisica, in modo di vedere le cose, ecco può avere anch'esso un ruolo nell'elaborazione di teorie scientifiche. Quindi alla base di tutto può nascondersi invece un ruolo importante anche per idee, per concetti, per ipotesi che non necessariamente derivano dall'esperienza ma piuttosto siano però direzionati, che conducano e che ci portino allora sì verso teorie scientifiche che possano essere confrontate con l'esperienza. Quindi ripetiamolo, questa è una grande differenza col circolo di Vienna, un conto è il criterio di significanza, un conto è il criterio di demarcazione. Scientifico e non scientifico, secondo Popper, non significa che sia coincidente questa distinzione con ciò che è sensato e non sensato. Anzi, al contrario, la metafisica, secondo questo importante filosofo austriaco, è una parte integrante della nostra vita, siamo tutti un po' filosofi, diceva Karl Popper, anche se non lo sappiamo, e vedremo come questo essere filosofi e quindi recuperare anche concetti astratti, generali, metafisici, non direttamente collegabili alle esperienze, sia invece molto importante proprio nella fase di elaborazione di ipotesi e di teorie scientifiche. Quindi, per concludere questo primo passaggio nel pensiero di Karl Popper, abbiamo visto come da un lato con questa nuova teoria della scienza anche la metafisica acquisisca un ruolo anche importante, non sia vista quindi come un'antiscienza o nemica della scienza, ma come musa ispiratrice del percorso dell'ideazione, delle teorie, delle ipotesi, quindi come anche aspetto di irrazionalità che può essere funzionale allo sviluppo della conoscenza. Dall'altro, una critica forte a tutte quelle attività che invece non si basano sul falsificazionismo, ma anzi sono pseudoscienze, sono attività, dottrine, teorie che pretendono di essere scientifiche, ma di fatto non ammettono possibile falsificazione, non ammettono incontro e confronto con la realtà, non contengono assezioni basi o falsificatori potenziali, non possono quindi essere contraddette dall'osservazione e in particolare due sono i bersagli critici di Popper, da un lato il marxismo e dall'altro la psicanalisi, ma di questo poi parleremo quando affronteremo la critica allo storicismo e anche al marxismo che farà Popper, però era importante appunto ricordare che tra pensiero politico e pensiero invece epistemologico e teoria della conoscenza ci sono moltissimi rapporti, tanto per cui le critiche che appunto farà in testi come la società aperte sui nemici o miserie dello storicismo riprendono alcuni aspetti della teoria appunto del falsificazionismo proprio nel momento in cui queste pseudoscienze secondo Popper non possono ambire al ruolo appunto di conoscenza scientifica proprio perché non contengono al loro interno falsificatori potenziali, non sono quindi mai contraddicibili dall'esperienza. Veniamo adesso però all'analisi di come funziona una teoria scientifica, cioè una volta posto il criterio di marcazione tra quello che è scienza e quello che è, vediamo cosa pensa Popper del funzionamento diciamo di una teoria. Popper ci parlerà del processo diciamo di formulazione, di sviluppo delle teorie scientifiche sia nella logica della scoperta scientifica sia in opere successive come congetture e confutazioni. In effetti il sistema di sviluppo della scienza secondo Popper va per congetture e confutazioni. Che cosa ci dice Popper? In realtà lo scienziato non agisce come pensava Bacone, accumulando osservazioni, singole osservazioni per poi astrarre in una teoria generale attraverso l'induzione, ma piuttosto parte dalla formulazione di ipotesi. La formulazione delle ipotesi secondo Popper avviene proprio perché qualsiasi essere umano, in particolare lo scienziato che è ispirato da un obiettivo di ricerca, da una volontà di spiegazione dei fenomeni naturali, inciampa in un problema, ci dice Popper, cioè si imbatte in un problema, in qualcosa che non riesce a spiegare. A quel punto che cosa fa? Beh, un po' come diceva Galileo, ex supposizione, cioè per ipotesi, inventa una teoria, ipotizza una possibile spiegazione di quel fenomeno. Ecco come nascono le teorie scientifiche, incontrando una difficoltà, qualcosa che non si riesce a spiegare e cercando quindi un'ipotesi anche azzardata, anche innovativa, anche diciamo basata su preferenze alle volte personali, estetiche, piuttosto che congetture creative non codificate da una procedura scientifica. Ma queste congetture che diventano delle ipotesi, appunto che spiegano quel fenomeno, devono poi però passare per un terzo stadio, quindi il primo è incontrare il problema, il secondo formulare un'ipotesi, il terzo è confrontare l'ipotesi con la prova dell'esperienza. Problemi, teorie, critica. Quindi problemi sono quelli che noi incontriamo quando analizziamo un qualsiasi fenomeno, quando camminando nel corso della vita ci imbattiamo in qualcosa che non sappiamo spiegare. Teorie sono quelle che ci aiutano a spiegare il fenomeno, ma appunto di cui non siamo sicuri al 100% che siano valide e proprio per questo dobbiamo confrontarle poi con l'esperimento, con l'osservazione, con la prova empirica. E quindi il terzo stadio è quello della critica, cioè dobbiamo sottoporre questa teoria a critica, a confronto con la realtà, a esperimento che potrebbe invalidarlo. Ecco, quando questo esperimento si rivelerà invece positivo sarà un punto a favore della teoria, ma questo non significherà che questa teoria è valida per sempre o è immune da ulteriori critiche, anzi ci dovremo noi e tutta la comunità scientifica intorno a noi sforzare di metterla ancora alla prova, cercando quasi di farla cadere, di sottoporla a critiche, a osservazioni, a controdeduzioni, a controesperimenti o appunto alla prova dei fatti, la prova empirica dell'osservazione per vedere se resiste a tutte queste controdeduzioni e a questi tentativi di confutazione. È quello che Popper chiama il sistema del trial and error, cioè prove e confutazioni, tentativi e controdeduzioni. In un certo senso la scienza per Popper è imparare dai propri errori, non è una costruzione solida, l'abbiamo visto, un edificio sostanzialmente inattaccabile, come magari appunto si è pensato un po' in diversi fasi della storia del pensiero, immaginiamo la fiducia del razionalismo, la fiducia dell'illuminismo nella forza della ragione, qui c'è piuttosto la fiducia nella fallibilità della ragione, cioè del fatto che è possibile sempre mettere in discussione le proprie idee e le teorie della scienza sono fatte, sono nate per essere messi in discussioni e si può imparare dai propri errori. Quindi cercare di capire che cosa ci sta dicendo l'esperienza, che cosa ci sta dicendo l'esperimento, che cosa ci sta suggerendo un fallimento e imparare dai propri errori, provare e sbagliare, provare e sbagliare. Questo è un po' il senso della filosofia di Popper, una filosofia sostanzialmente critica, una filosofia aperta, cioè questo sistema di tentativi e errori è un sistema aperto, un sistema in cui chiunque può dare il suo contributo, proprio perché la comunità scientifica parla la stessa lingua, adotta la stessa metodologia e cerca quindi di mettere in discussione, in crisi, le teorie più convalidate e immaginiamo anche le nuove teorie che devono farsi largo e cercare di corroborare sempre di più le novità teoriche introdotte, ma questo attraverso una comunità che impara dai propri errori, che cerca di spingere il confronto sempre più in là senza la paura della smentita. Diversamente da quello che si può immaginare, quindi la scienza non è qualcosa che cerca di temere di essere smentita, ma quasi cerca di essere smentita perché proprio nella sua natura, quella di cercare di essere messa alla prova e se naturalmente non viene smentita una teoria, tanto di guadagnato, quella teoria sarà ancora più robusta, ma la cosa più importante di tutte è invece che cosa succede se qualcosa va storto. Abbiamo imparato qualcosa, abbiamo fatto crescere la nostra consapevolezza e quindi avremo nuove teorie, avremo nuove spiegazioni per quel fenomeno, ma anche se per essere scientifiche dovranno essere sempre sottoposte al sistema del trial and error. Questo tipo di visione della scienza è radicalmente opposto alla visione che abbiamo chiamato induttivista, cioè l'immagine della scienza baconiana secondo cui la scienza era un'attività che appunto procedeva per induzione accumulando un certo numero di esperienze e di esperimenti e aumentando, accumulando e ingigantendo sempre di più il corpus delle conoscenze, tra virgolette, verificate. Ecco, quella di Popper è una profonda e radicale critica all'induzionismo o all'induttivismo, cioè a questa filosofia secondo cui l'accumulo di esperienze porta alla possibilità di generalizzare delle conclusioni universali e quindi a poter convalidare una volta per tutte la teoria. Abbiamo visto la fallibilità di asserire tutti i cigni sono bianchi, ecco quella è un'induzione che proprio cade nel momento in cui si osserva per la prima volta un esempio che non va. L'induzionismo per enumerazione è quello che abbiamo detto, cioè accumulare un certo numero di esperienze e poi indurre una prova generale. Non so se vi ricordate quel famoso esempio del tacchino induzionista, un esempio che in realtà è di Bertrand Russell, quel tacchino che ogni mattina era molto intelligente, aveva capito che a un'ora ben determinata arrivava alla fattoria il fattore che gli portava da mangiare e quindi una volta, un secondo giorno, un terzo giorno, un quarto giorno, questo evento si ripeteva ciclicamente, sistematicamente e questo tacchino che era molto intelligente faceva un'induzione e diceva beh allora tutti i giorni il fattore arriva per portarmi da mangiare alle 8 di mattina. Ecco questa induzione per quanto corroborata, diciamo per quanto sostenuta da un numero notevole di osservazioni, passa tutto l'anno, va sempre avanti così fino a che invece arriva il giorno del ringraziamento. Il contadino arriva e invece di portargli da mangiare come tutti i giorni precedenti gli tira il collo e diciamo lo cucina per pranzo come da buona tradizione americana. E quindi il tacchino aveva fatto una perfetta induzione in stile baconiano ma non aveva funzionato perché? Perché appunto siamo sempre alle solite, basta un caso storto, basta un imprevisto, basta un esperimento che non si allinea, che decide di non allinearsi alla successione delle enumerazioni fatte dello stesso esperimento che invece risultava sempre positivo per far cadere e diciamo sgredolare completamente la teoria che avevamo fatto. Quindi non è possibile immaginare che l'induzione ci possa aiutare una volta per tutte a formulare una teoria scientifica unica e universalmente riconosciuta. D'altronde ci dice Popper che da un punto di vista logico è tutt'altro che ovvio che si sia giustificati nell'inferire asserzioni universali da assunzioni singolari, per quanto numerose siano queste ultime. Infatti qualsiasi conclusione tratta in questo modo può sempre rivelarsi falsa, per quanto numerosi i casi siano i casi di cigni bianchi che possiamo aver osservato, ciò non giustifica la conclusione che tutti i cigni sono bianchi. Quindi non si va dai fatti alle teorie, come dicevano gli induzionisti, ma dalle teorie al loro controllo empirico tramite i fatti. Il punto di partenza della scienza quindi non sono i fatti, ma sono sempre le teorie, sono le teorie a cui arriviamo attraverso varie congetture, le congetture più disparate diciamo così, non necessariamente dovute a osservazioni precedenti, ma a un nostro modo di immaginare una possibile soluzione del problema. Ecco, dalle teorie ai fatti, cioè si parte dalla teoria e si arriva a metterla alla prova, si arriva a provare a verificarla, ma piuttosto, come abbiamo capito, a provare a vedere se regge al vaglio della verifica empirica. Quindi abbiamo capito che siamo proprio da un punto di vista contrario rispetto a quello induttivo, stiamo vicini a un punto di vista deduttivo. Si crea una teoria, una teoria predittiva, una teoria quindi capace di generare delle previsioni. Si generano deduttivamente le conseguenze di questa teoria, proprio come Einstein, abbiamo visto, aveva generato una teoria, quella della relatività, che aveva come conseguenza la curvatura della luce nel momento in cui appunto passasse in prossimità di uno spazio occupato da un oggetto con una grande forza gravitazionale in grado di curvare lo spazio-tempo, quindi si doveva osservare la curvatura della luce. Ecco, questa è una delle tante conseguenze deduttivamente tratte, quindi dedotte dalla teoria. Quindi non tante osservazioni e si induce una teoria con l'induzione, ma una teoria e da questa teoria generale si deducono degli eventi, delle circostanze che andranno queste poi a essere confrontate con la dura realtà, con lo zoccolo duro della realtà, cioè con i fatti, cioè con gli esperimenti, con le osservazioni. È questo quello che Popper chiama il controllo deduttivo delle teorie. Proprio in questo senso che Popper parla dell'osservazione sempre carica di teoria. L'osservazione non è mai avulsa da convinzioni, punti di vista, obiettivi. Quando si osserva un fenomeno, dice Popper, c'è sempre una teoria da cui si parte, c'è sempre qualcosa che si vuole trovare, si vuole cercare, si vuole dimostrare o si vuole invece confutare. La nostra mente non è una tabula rasa, come immaginiamo a Bacone, qualcosa che parte dal nulla. Dal nulla nasce nulla. Se noi non abbiamo un'ipotesi in testa, le osservazioni sono prive di senso. Non sapremmo cosa misurare, quando misurarlo, che tipo di osservazioni fare, che tipo di ipotesi fare. Lo stesso Galileo, quando parlava sul dialogo dei massimi sistemi, dei vari esperimenti per provare, diciamo, il moto dei gravi, il movimento degli astri, eccetera, eccetera, non era un semplice osservatore, ma era uno scienziato che aveva già sposato un punto di vista, che era quello della teoria copernicana. Questa lente della teoria copernicana gli permetteva poi di osservare, cercare la conferma in certi esperimenti piuttosto che altri, cercare quindi la demolizione della teoria aristotelica con certe prove rispetto che altre. Quindi, appunto, la nostra mente non è una tabula rasa, l'osservazione è sempre carica di teoria. Quindi, l'immagine di scienza che ci propone Karl Popper è veramente innovativa. In un certo senso ribalta completamente la tradizione della filosofia della scienza classica, dell'epistemologia classica, che vedeva lo scienziato come un ricercatore impegnato nell'accumulo spasmodico di esperimenti, di osservazioni, nella speranza poi di poterli generalizzare attraverso l'induzione in leggi di portata universale. Mentre l'immagine, appunto, che ci restituisce Popper è piuttosto quella di una scienza che avanza attraverso anche la formulazione di ipotesi ambiziose, non sempre collaudate, non sempre basate su osservazioni, quanto piuttosto delle ipotesi, delle teorie che cercano di risolvere un problema dato e che successivamente dovranno essere poi confrontate con la realtà, con l'esperimento, con l'osservazione, e in quel momento, appunto, si vedrà se rispondono favorevolmente oppure, diciamo, sfavorevolmente all'esperimento stesso, se l'esperimento confermerà l'ipotesi oppure la falsificherà. Nel caso, l'abbiamo visto, che l'esperimento si riveli favorevole all'ipotesi, non avremo certo la dimostrazione finale di quest'ipotesi, ma la sua corroborazione. Ecco, quindi è molto importante nell'ottica di Popper un'immagine di carattere deduttivo, più che induttivo, della teoria. La teoria è qualcosa, quindi è la scienza, è un'attività che cerca di dar risposta a dei problemi, però veramente muovendosi un po' sulle palafitte. Il perreno su cui appoggiano le teorie è sempre piuttosto incerto. D'altronde, lo sappiamo, se una teoria fosse validata una volta per tutte, pensiamo ad esempio alla storia della fisica, avremmo da sempre una teoria invulnerabile. La teoria distotelica non sarebbe stata poi superata dalla, che è arretto per secoli, per millenni anzi, non sarebbe poi stata superata dalla teoria newtoniana. La teoria newtoniana non avrebbe incontrato una rivoluzione attraverso le novità proposte da Einstein, eccetera, eccetera. Proprio perché la verità si nasconde, si nasconde veramente, lo vedremo, come una cima di una montagna tra le nebbie ed è quanto mai difficile da raggiungere, ma deve essere comunque sempre la nostra meta finale per Popper. Comunque, appunto, il processo possiamo descriverlo attraverso questa immagine. Vedete, secondo Popper ci si imbatte, lo scienziato si imbatte in un problema, quindi c'è un certo problema da risolvere, qualcosa che non torna, ad esempio, non è spiegabile attraverso l'impianto concettuale della teoria che in quel momento storico è accettata, allora si cerca un tentativo di soluzione alternativa, formulando un'ipotesi. Quest'ipotesi avrà al suo interno una serie di conseguenze, di deduzioni, cioè dall'ipotesi si potranno dedurre una serie di affermazioni che, appunto, abbiamo visto, sono le asserzioni base o falsificatori potenziali. Questi verranno messi in confronto attraverso la sperimentazione, attraverso l'esperienza, che dovrà quindi verificare o falsificare l'ipotesi stessa. Nel caso di errore naturalmente si dovrà fare i conti con un nuovo problema e con un nuovo tentativo di soluzione. Vedete, proprio questo processo, questo schema, riassume perfettamente la metodologia trial and error tipica del pensiero falsificazionista di Popper. In questo senso, Karl Popper insiste molto nella distinzione tra il momento della scoperta e il momento della giustificazione. Nella scienza, questi due momenti devono essere separati in maniera molto chiara, proprio perché, come abbiamo visto, esistono, come dire, due livelli di lettura della scoperta scientifica. La scoperta è qualcosa che ha a che vedere con la genesi di nuove idee. Questa genesi non è qualcosa, noi a volte parliamo di scoperta scientifica come una nuova osservazione, un nuovo esperimento, ma appunto abbiamo visto che, nell'ottica di Popper, gli esperimenti sono qualcosa che proprio serve a corroborare o a falsificare un impianto concettuale che è già formato, che è già esistente. In un certo senso, quindi, la scoperta avviene a monte. La scoperta avviene proprio anche attraverso delle idee metafisiche. Come vedete che in questo caso c'è un po' di recupero all'interno del corpus della scienza della valenza delle idee personali, delle ambizioni, dei sogni, delle convinzioni, di tutto un apparato che è, diciamo, non necessariamente basato su quello che si osserva, ma è l'orizzonte culturale del ricercatore. Ecco, lo scienziato ha un retaggio personale. Pensiamo, ad esempio, allo stesso Copernico. Copernico, in fondo, fece un'ipotesi molto ardita del Revoluzionibus, cioè di porre il Sole al centro dell'universo e la Terra e tutti gli altri pianeti a girargli intorno, mentre c'era una tradizione secolare che aveva invece posto la Terra, no? Al centro dell'universo per ragioni filosofiche, etiche, scientifiche, morali, religiose. Ma qual è stata la ragione iniziale che aveva spinto Copernico a fare questo tipo di ipotesi? Che effettivamente all'epoca era un'ipotesi, c'erano ben poche prove che le cose andassero veramente così e che fosse il Sole effettivamente a essere al centro del nostro sistema solare. Beh, praticamente una delle principali ragioni che spinse Copernico a compiere questa rivoluzione così importante nella storia del nostro pensiero è stata una ragione di carattere estetico, religioso, cioè Copernico ragionava sul fatto che l'attuale spiegazione che la teoria geocentrica aveva nei secoli comportato, insomma fino ad arrivare ai giorni di Copernico stesso, cioè la teoria degli epicicli, erano una serie di orbite che giravano intorno a punti che si muovevano circolarmente, questo per salvare un impianto che non collimava più con le osservazioni, no? Quindi Copernico si trovava in un momento in cui le osservazioni sempre più raffinate del movimento dei pianeti non riuscivano più a essere spiegate dalla descrizione di orbite circolari intorno alla Terra e quindi per salvare la centralità della Terra nel tempo gli astronomi avevano creato una serie di movimenti che si componevano di sfere che giravano intorno ad altre sfere, cerchi che giravano intorno ad altre sfere, si era arrivato addirittura a un cerchio che girano intorno a un cerchio che girano attorno a una orbita circolare, quindi veramente un impianto che Copernico definiva mostruoso, cioè diceva Dio non può aver creato un universo così complicato, con dei movimenti così innaturali, così poco estetici, così strani e brutti da concepire, deve esserci una soluzione più semplice, più bella, più lineare e quindi immaginò appunto che il punto d'osservazione fosse sbagliato e che fosse il Sole al centro dell'universo e non più la Terra e lì appunto i calcoli subito tornarono in maniera più elegante, più pulita. Ma vedete, stiamo parlando di estetica, di Dio, di pulizia, di bellezza, quindi di ragionamenti che hanno a che vedere più con la metafisica che con la fisica. È proprio questo tipo di convinzione che appunto aveva spinto Copernico a immaginare un nuovo modello di riferimento, cioè la convinzione che Dio non potesse fare le cose in maniera così appunto innaturale, poco funzionale, poco estetica e confusa. E quindi una osservazione tipicamente rinascimentale, ecco, legata all'ordine dell'universo, all'estetica, all'equilibrio tra tutte le forze, tra tutti i pianeti, eccetera, eccetera. Quindi non una riflessione di carattere osservativo, cioè non è stato l'osservazione e l'accumulo di esperienze, stile, bacone, di carattere induttivo che ha spinto Copernico a elaborare questa teoria, ma piuttosto la prima ragione, poi ovviamente ci sono state una serie di prove matematiche, eccetera, eccetera, però la molla che ha spinto Copernico a formulare l'ipotesi è stata una molla appunto che aveva a che vedere con l'estetica, con la religione, con la concezione di un Dio che fa un cosmo ordinato e regolato, ok? Quindi questo è un esempio che ci fa capire il ruolo di tutto ciò che non è strettamente legato all'osservazione di laboratorio, ma sono idee dello scienziato e questo descrive il contesto della scoperta. La scoperta, la formulazione di nuove idee deriva proprio da questo, da una serie di, anche di preconcetti propri dello scienziato stesso, ma dopo c'è il contesto della giustificazione. Quindi nella scienza è possibile ipotizzare qualsiasi cosa, si possono fare le teorie più strane e più ambiziose, diverse, innovative, critiche anche rispetto, è molto importante questo, critiche contrarie allo status quo. La scienza è critica, la scienza è aperta, proprio perché permette qualsiasi tipo di affermazione contraria, ma questa affermazione contraria poi deve passare dal lato della scoperta al lato della giustificazione, molto importante, che contenga qualsiasi osservazione al suo interno delle sezioni base che possono essere confrontate con le esperienze. Quindi questa ipotesi, se non viene poi vagliata e corroborata dall'esperienza, verrà estromessa dal mondo della scienza. Quindi libertà di ideare, libertà di avere nuove idee, ma poi anche però responsabilità nel momento in cui queste nuove idee devono essere confrontate con gli esperimenti, con quindi le prove empiriche che sono l'ossatura fondamentale, il metodo sperimentale che da Galileo poi è la base del del pensiero scientifico moderno. E infine l'antifondazionalismo, cioè l'idea di fondo per cui non esiste il fondamento ultimo, questo, diciamo, questo logos che giustifica a priori la ricerca scientifica, la verità scientifica. La verità non è qualcosa che la filosofia debba trovare una volta per tutte, possa trovare come qualcosa che sta alla base della scienza. Ecco, la scienza non si fonda su una verità certa che la filosofia deve trovare, deve individuare, un po' in un certo senso in uno stile anche hegeliano, una verità assoluta che esprime la ragione del mondo. Ecco, non c'è questa ragione del mondo, secondo Popper ci sono una serie di ipotesi che fanno sempre i conti con la realtà, sono fallibili, sono autocorreggibili e quindi il fondamento è il fondamento che allo stato attuale, secondo Popper, è il più vicino e più corroborato dall'esperienza. Questo stesso fondamento però potrà essere in futuro messo in discussione, proprio come la fisica di Aristotele con l'arrivo della fisica moderna o come la fisica moderna con l'arrivo della relatività di Einstein. ulteriori osservazioni, esperimenti o ipotesi alternative che spiegano meglio, in maniera più completa, in maniera più accurata, lo stato di cose di un certo fenomeno naturale possono generare una rivoluzione scientifica, possono cambiare in parte o completamente i fondamenti stessi della conoscenza. E quindi appunto il ruolo della filosofia non è certo quello di individuare questa ragione che sta alle spalle della scienza e che dovrebbe fondarla una volta per tutte, perché appunto questa ragione, secondo Popper, non c'è. La scienza quindi appare come un sapere problematico, un sapere incerto, tutta la conoscenza dell'uomo è ispirata a criteri di incertezze e di problematicità, ma questo non è un male, secondo Popper, è come dire, è anzi, è una forza, proprio perché ci avvicina. Ci avvicina perché ci fa parlare tutti la stessa lingua. È vero che forse non abbiamo ancora tutte le verità, ma abbiamo un modo per scoprire quale di questa non è una verità. Ecco, la lezione della scienza è proprio quella che qualsiasi teoria può essere avanzata in un sistema scientifico democratico e vedremo anche in un sistema politico democratico, ma poi ci vuole però l'onestà intellettuale, così come ebbe Einstein, col famoso esperimento del 1919, di dire ragazzi, la teoria matematicamente funziona perfettamente, ma se l'osservazione, questa osservazione così particolare dell'eclissi solare non dovesse andare in questa direzione, beh, allora significherebbe che la relatività è falsa. E quindi bisogna avere la curiosità intellettuale di accettare la fallibilità del nostro sapere, una fallibilità strutturale, un'incertezza strutturale, ma non per questo però un'incertezza che spaventa, un'incertezza esistenzialista, diciamo quasi nichilista. Ecco, non c'è del nichilismo nelle parole di Popper, ma anzi un entusiasmo per la capacità della conoscenza, una volta fatti conti con la propria limitatezza e la propria fallibilità, di però aiutare l'uomo se non altro a togliere delle falsità. Ecco, se forse non possiamo cogliere una volta per tutte la verità, certamente possiamo eliminare sempre progressivamente più falsità possibili e quindi andando un po' per esclusione ci avviciniamo a questa retta nebulosa. E vorrei concludere la trattazione proprio leggendo una frase bellissima di Popper su che cos'è la verità, perché è chiaro che tutto questo discorso in un certo senso dà una nuova visione di quella che è la verità, la verità che da sempre la filosofia ha cercato in tutte le sue epoche come quasi un'idea costitutiva del sapere. Ecco, diciamo, per Popper è più un'idea regolativa, cioè qualcosa che ci deve ispirare ad andare avanti. Forse non la coglieremo mai, ma il fatto che sappiamo di poterci avvicinare alla verità è la spinta che ci può portare se non altro a scoprire molte falsità e a limitare i nostri errori. E questo è tutto ciò che abbiamo, ma è tanto però, perché appunto è la base di una conoscenza che è intersoggettiva, è una conoscenza che tutti possono controllare e tutti possono mettere in discussione, quindi non c'è più il principio di autorità, l'ha detto il sapiente, l'ha detto l'Aristotele di turno. Chiunque può, diciamo, affermare e innovare il mondo intorno a noi, ovviamente ci vuole studio, ci vuole impegno, ci vuole conoscenza, però la cosa importante è che lo può fare attraverso un sistema, un linguaggio che vale per tutti, un sistema di trial and error che è proprio una chiave di lettura, secondo lui, del mondo contemporaneo. Vedremo non solo dal punto di vista dell'evoluzione della nostra conoscenza, ma anche dei sistemi di vita che abbiamo, fra cui i sistemi istituzionali, politici, sociali, della democrazia liberale a cui Popper tanto teneva, era un grande sostenitore del pensiero liberale. Ma appunto volevo concludere con una lettura sulla verità, che cos'è quindi la verità secondo Popper. Ok, sentiamo cosa ci dice Popper. Lo status della verità, intesa in senso oggettivo, come corrispondenza ai fatti, con il suo ruolo di principio regolativo, può paragonarsi a quello di una cima montuosa, normalmente avvolta tra le nuvole. Uno scalatore può non solo avere difficoltà a raggiungerla, ma anche non accorgersene quando vi giunge, perché può non riuscire a distinguere nelle nuvole tra la vetta principale e un picco secondario. Questo tuttavia non mette in discussione l'esistenza oggettiva della vetta, e se lo scalatore dice dubito di aver raggiunto la vera vetta, egli riconosce implicitamente l'esistenza oggettiva di questa. Quindi, vedete, è chiarissimo in questo, oltre che molto bella questa metafora, è chiarissimo il messaggio che ci vuol dare, anche se non siamo in grado di sapere se proprio abbiamo raggiunto la verità con la V maiuscola. La verità esiste, la verità c'è, è come la vetta difficile da raggiungere, e anche quando siamo sopra la vetta in mezzo alle nebbie, con tutte le altre vette che spuntano, non esiste solo quella, siamo in un mondo pieno di possibili verità. Ecco, non è facile capire se siamo arrivati veramente nella vetta più alta, però sappiamo che esiste una vetta più alta, e questo per noi ha un'importanza regolativa, cioè il fatto che sappiamo che c'è, e che forse possiamo anche raggiungerla, è quello che ci spinge, che spinge lo scalatore a salire. Quindi l'uomo in generale, lo scienziato, il filosofo, ma in generale l'essere umano è come quello scalatore che non sa se raggiungerà esattamente la vetta, e non sa neanche se una volta sopra sarà in grado di dire se l'ha raggiunto o no, però sa che questa vetta esiste, sa che la può raggiungere. Cioè ha in modo, ha la forza, la tenacia, la resistenza, l'impegno e l'ingegno di raggiungere la verità. La verità quindi è una idea regolativa, è bellissima questa cosa, è qualcosa che ci deve spronare a cercarla, è qualcosa che deve aiutarci nella ricerca, l'idea della verità. Più che qualcosa dato una volta per tutte, intuito, stile cartesiano, o l'idea in punto in sé, stile hegeliano, è qualcosa di regolativo, di funzionale alla ricerca, è qualcosa che forse ci sfuggirà all'ultimo momento, però non dobbiamo mai fermarci dal tentativo di cercarla, di acciuffarla una volta per tutte. L'ultima frase, e poi ci lasciamo, molto carina, che rende anche un po' l'idea dello stile, anche un po' ironico di Popper, sul stile disilluso, diciamo, del suo pensiero, ha a che vedere con la verità valida una volta per tutte delle teorie. E lui ci dice questo, ogni qualvolta una teoria ti sembra essere l'unica possibile, prendilo come un segno che non hai capito né la teoria né il problema che si intendeva risolvere. E con questo vi saluto e ci vediamo per un'ultima puntata con il pensiero politico di Karl Popper.